maschi abbiamo una prima falsa credo ed eccoci qui partenza regolare per questa prima batteria tre sedi del belusco, uno della Paternese guardiamola voglio dire come si adestiscono tra, è esattamente come come è andata a noi e andiamo verso la fine due posti per la finale ok partenza regolare ultima batteria ancora solo due posti per una finale solo due posti e andiamo andiamo a vedere come si conclude questa ultima batteria due posti per la solo due posti Woooah!